Sì, sa quanti anni ho io? Sì, sono 89 già compiuti Ma complimenti Già compiuti, sono l'unico parroco nostrano che sono tutta la vallata Davvero? Quanti anni hai che è qua a lei? 25 anni 25 anni, quindi lei conosce tutti di questo parroco Ma poi sono partito, io sono percetese Ma io ho fatto 37 anni a Rocca Prevalza Poi dopo Rocca Prevalza, ma anche con Rocca Prevalza Ho preso Bergotto, ho preso Lozzola, ho preso Ghiare Poi sono venuto giù, Pietra Mogolana E poi quando è morto Don Mario Sono venuto qui con tutte queste... Ha tanto lavoro, ha fatto tanto lavoro e ne sta facendo un po' Ho giustato delle chiese che erano malandate Quella vecchia che è la prima parrocchia là su L'abbiamo messa a posto che era crollata Quella di Prelerna che era un fienile L'abbiamo messa a posto bene Bello, guardi, veramente complimenti Ghiare, ho fatto chiare, ho fatto tutto Niente, sono il parroco del Vallata Complimenti, complimenti Grazie a tutti